Musica Amiche e amici di Globus Television, buon pomeriggio, nuovo appuntamento con Calcionate Flash, il nostro contenitore che avrà da discutere tanto, da intrigare tanto, da investigare tanto sulle operazioni di calciomercato del Catania. Focus naturalmente su quella che è la sessione estiva di calciomercato, molto importante e utile per tutte le formazioni che debbono naturalmente preparare la prossima stagione. Ce ne occuperemo come facciamo ormai ogni lunedì dalle 15 alle 15.30, questi sono i canali a cui accedere per seguirci e quindi la solita tabella in grafica, vedete canali 15 e 18 del digitale terrestre con la tecnologia HBBTV per la Sicilia, stessa tecnologia ma canale diverso, il 268 del digitale terrestre a carattere nazionale, quindi potete seguirci in tutta Italia. Poi potete invece seguire la live streaming su www.globusmagazine.it slash video, sulle piattaforme Twitch, TV Dream, Facebook, Local TV e Cyber TV, anche per la copertura totale degli Stati Uniti d'America, Canada, l'Australia e naturalmente per tutta l'Europa. E poi se preferite seguirci attraverso l'app, scaricate la nostra app Globus Network Italia sul vostro dispositivo Android o Apple. Detto questo un saluto anche a Vincenzo Lacorte, a Gaetano Ligreggi che segue la regia. Partiamo, partiamo subito, puntata ricca di contenuti e soprattutto di voci, le voci di radiomercato. Apriamo subito con una schermata che dà il senso di quelle che potrebbero essere le operazioni di mercato della società etnea e quindi le voci di mercato. Ringraziamo per questo naturalmente anche Salvo Ferrigno che cura le grafiche della nostra trasmissione e quindi vedete come in grafica ci siano un certo numero di giocatori che sono stati valutati o vengono attualmente valutati o potrebbero essere valutati. Alcune piste sono davvero molto calde, altre piste sono quelle che da tempo appunto le voci insistenti di radiomercato ci indicano qualche pista per la verità si è un po' raffreddata, altre sono invece nel pieno della trattativa. Non sempre facile in questa fase anche perché alcuni giocatori che hanno mercato hanno inevitabilmente richiesta di altre piazze e quindi staremo a vedere. Così come andiamo subito però a vedere e magari aiutandoci di volta in volta con la grafica quelle che sono invece oggi facciamo un riepilogo più logico, più analitico se volete sfruttando il reparto. Partiamo dal reparto per dire che per ogni reparto ci sono e ci saranno chiaramente dei movimenti. Partiamo dall'inizio, partiamo quindi dalla porta dove nel frattempo il primo colpo si è concretizzato e porta il nome di Marius Adamonis che è un lettone classe 97 scelto da Faggiano e Toscano per difendere i pali della porta rossazzura. Vediamo anche la schermata, la scheda è già un'operazione che è stata definita qualche settimana fa. Il nuovo portiere del Catania di proprietà della Lazio proviene però da una stagione molto positiva alla Perugia. Per quanto riguarda la porta poi c'è ancora da sciogliere il nodo Klaus Betters, portiere del Catania che lo scorso anno ha subito un grave infortunio e quindi è stato fermo. Per quanto riguarda le ultime notizie pare che il giovane Betters potrebbe restare al Catania come secondo. Staremo a vedere, c'è qualche richiesta di altre società. Poi c'è la questione legata a Jacopo Furlan. L'estremo difensore rossazzuro sembrava diretto verso Modena però la trattativa in qualche modo si è bloccata. Il trasferimento che sembrava certo non è avvenuto. Furlan resta un attimo in stand by. Sembra però non ci siano grandi possibilità che la trattativa possa essere definita per cui per Furlan potrebbero aprirsi nuove opzioni. Triestina e Lecco su tutte. Per quanto riguarda la difesa, poche le certezze perché tra le certezze potrebbe esserci quella di Alessio Castellini che è stato contrattualizzato dal Catania, confermato. Su Castellini però ci sono delle voci insistenti e qualche interesse di formazione di serie B. Per esempio la Cremonese. Staremo a vedere. Poi c'è Boa. Anche Boa ha delle richieste. Si deve valutare, naturalmente, questo lo stanno facendo i dirigenti del Catania, ma Boa potrebbe interessare sia a Mantua che a Cesena. Le altre posizioni per quanto riguarda il reparto difensivo, per quanto riguarda Contec, anche per il giovane difensore croato ci potrebbe essere un interessamento, anzi qualcosina in più, anzi diciamo che è quasi definito il suo passaggio alla Casertana e quindi Contec dovrebbe essere a tutti gli effetti un giocatore della Casertana. Poi rimangono le posizioni da valutare di Celli, Silvestre, Coini, Curado e Sasammonaco. In uscita anche Francesco Lapisarda che piace alla Taranto e che potrebbe quindi essere anche questa una trattativa in via di definizione. Per quanto riguarda invece gli acquisti, le operazioni in entrata fatte per l'arrivo del terzino sinistro Armando Anastasio, nel frattempo magari con l'aiuto delle grafiche, se ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo andiamo avanti. Eccola qua prontamente, quindi grazie a Gaetano Rigreggi. Eccolo qua la grafica di Armando Anastasio, classe 96, 28 anni, reduce da una stagione positiva alla Casertana, è giocatore di proprietà del Monza, il giocatore arriva a titolo definitivo, firmerà un contratto di tre anni. L'altro nome caldo è il difensore centrale Matteo Di Gennaro, che è un classe 94, ha 30 anni. Lo scorso anno ha la Carrarese, che sarà avversario del Catania nel turno preliminare di Coppa Italia, ne parleremo dopo. E poi altro nome che stanno valutando, il dirigente del Catania, è quello dell'esterno destro Tiago Casasola, classe 95, di proprietà della Ternana. Il Catania rischia di veder saltare un'altra pista che da qualche settimana sta inseguendo, quella che porta a Galo Capomaggio, sempre di proprietà, sempre proiettato il giocatore argentino verso l'Avellino. Cerignola pare abbia accettato quest'ultima offerta. Il Catania aveva messo sul piatto della bilancio una cifra considerevole, circa 600 mila euro, ma Cerignola nicchia, staremo a vedere. Allora, questi due primi reparti, difesa piena, nel senso che abbiamo valutato sia il portiere, sia le operazioni di entrate e uscita che riguardano i portieri, sia le operazioni di entrate e uscita che riguardano i difensori. Più tardi, tra qualche minuto per la verità, parleremo delle operazioni di entrate e uscita che riguardano centrocampo e attacco. Adesso però, un attimo, facciamo il punto su questa sessione di mercato, sulla prossima stagione del Catania, con il nostro amico Max Licari, direttore di Pianeta Catania, che abbiamo ascoltato. Buongiorno, direttore Licari. Buongiorno. Direttore, quest'anno com'è la partenza del Catania? Come si aspetta? Che stagione si aspetta? E questi nuovi arrivi del Catania? Cosa ci può dire tutto ciò? Io devo dire che ho delle buone sensazioni in merito all'avvio della stagione del Catania. È chiaro che ancora le ufficializzazioni a oggi sono poche, ma alle notizie che abbiamo dovrebbero arrivare copiose in questa settimana, sia in entrata e soprattutto anche in uscita. Le sensazioni sono buone perché il Catania quest'anno pare che abbia compreso gli errori anche gravi commessi nella scorsa stagione, perché ha incamerato uno dei migliori direttori sportivi in circolazione, Faggiano, uno dei migliori tecnici per la categoria Toscano. Sembrerebbe che stia strutturando anche la società in un certo modo, adesso ci sarà un nuovo direttore generale. Si sta muovendo in direzione di un cambiamento in positivo. Ovviamente al tifoso cosa interessa? Interessa il campo, interessano i gol, interessano i risultati. E da quel punto di vista la società si sta muovendo sul mercato. Sono arrivate un paio di ufficializzazioni. Il portiere che sapevamo, Adamonis, è questo centrocampista che ha segnato dieci gol nella scorsa stagione, cioè Carpani, ma adesso sarà la volta dei vari D'Andrea e poi vedremo chi Anastasio, vedremo chi il Catania prenderà per poter strutturare la formazione della prossima stagione. Ci sarà veramente molto da lavorare, c'è molto da lavorare e dalle notizie che abbiamo la società ha intenzione di cambiare molto, se non moltissimo, della rosa della scorsa stagione. Quindi ci sarà da fare un lavoro molto molto importante da parte di Toscano di assemblaggio. Fermo restando che è un allenatore di grande esperienza, che ha vinto molto in categorie, quindi sa perfettamente quello che sta facendo e soprattutto supponiamo che si stia facendo acquistare i giocatori adatti al suo modulo. Grazie direttore. E questo era il punto, il focus di Max Licari che ringraziamo naturalmente. Allora, intanto vi ricordo come raggiungerci direttamente in trasmissione attraverso i nostri social, potete utilizzare la pagina Facebook che è appunto calcionato i commenti in casa rossa-azzura o il nostro numero WhatsApp 340-051-1286 per interagire con noi. Allora, torniamo a bomba a quelle che sono le notizie appunto di calcio mercato, i rumors di radiomercato, qualche nome è stato peraltro anticipato anche da Max Licari, così come Max ha ridefinito la strategia della società, della presidenza, della vicepresidenza, naturalmente del nuovo direttore sportivo, in sinergia con il nuovo tecnico, con Toscano. Sul piatto della bilancia, con un peso specifico leggermente diverso, ci sono sia le operazioni in uscita che quelle in entrata. Ed è chiaro, evidente, come lo stesso Max ci ha ricordato, l'esigenza del Catania che deve in qualche modo valutare bene quello di cui dispone in questo momento e quello che poi sarà l'esubero, per così dire, prima di rinforzare la squadra adeguatamente con gli innesti giusti. A questo proposito, poco fa abbiamo parlato della difesa e anche del ruolo dei portieri. Adesso invece vediamo un po' la situazione per quanto riguarda gli altri settori nevralgici nella costruzione della squadra, a partire dal centrocampo. Anche qui partiamo subito da quelle che sono le valutazioni che si stanno facendo in merito a Ladinetti, Zanellato, Zammarini. Si devono valutare per bene anche le posizioni di Welbeck e di Sturaro. Si è invece conclusa di fatto l'esperienza di rossa-azzurro di Emanuele Ndoi perché ormai alla scadenza del contratto non ci sono stati contatti tra le parti e quindi Ndoi a questo punto è svincolato e libero di accasarsi da un'altra parte. Diversi interessi per Andreas Teio che arrivano in particolare dal Pisa ma anche da altre società. C'è per esempio la Salernitana che pare si stia muovendo. Doppia trattativa tra il Catani e il Catanzaro perché per quanto riguarda la linea mediana nel mirino dei rossa-azzurri c'è Luca Verna classe 1993, 29 anni, in giallo-rosso dal 2020. Attenzione però perché Verna ha mercato e ci sono altre squadre che hanno puntato l'attenzione su questo giocatore. L'altra trattativa in piedi col Catanzaro riguarda Dimitrios Sunas calciatore di origine greca 1994, classe 94, che piace però anche a Lavellino. C'è sempre calda la pista che porta a Ciccio De Rose, centrocampista che Toscano conosce bene perché lo ha allenato al Cesena. Ci sarebbe una questione legata che riguarda il livello economico nel senso della trattativa tra richiesta e offerta. C'è una differenza che la società rossa-azzura dovrebbe colmare. E poi altro nome interessante è quello del centrale Ivan Varone, classe 92, 30 presenze e un gol. Resta ancora calda la pista che porta a Francesco Di Tacchio, mediano classe 90 della Ternana che lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Ascoli. Ed è già arrivato, e questa è la grafica che possiamo mandare, Gianluca Carpani, 97, reduce d'ottime due stagioni alla Re Canatese. Questa è una trattativa già definita, contratto per il giocatore che vestirà il prossimo anno la maglia rossa-azzurra. Questo per quanto riguarda il reparto nevralgico della squadra che è il centrocampo. Per il momento i contratti ufficiali sono relativamente pochi, ma nel senso che in settimana potrebbero esserci delle novità, delle ufficializzazioni, ma anche dei nuovi nomi che arriveranno ai piedi dell'Etna per puntare la squadra ed essere protagonisti il prossimo anno in Serie C. A proposito di stagione, andiamo a vedere un'altra importante schermata, poi arriveremo agli attaccanti, che riguarda invece l'agosto rossa-azzurro. Lo abbiamo definito così anche grazie all'estero alla fantasia e ha qualcosa in più da spendere del nostro Salvo Ferrigno. Ecco, perché la stagione di agosto, il mese di agosto, sarà importante, anche perché si darà il via ufficialmente alla stagione con il turno preliminare di Coppa Italia a Frecciarossa, con il Catania che giocherà sabato, quindi è stato rettificato, anticipato a sabato l'incontro con la Cararese e quindi il 3 agosto Cararese-Catania. Poi, per quanto riguarda i 32esimi, nel caso di superamento del turno, il Catania potrebbe affrontare il Cagliari in Sardegna domenica 11 agosto. E poi, per quanto riguarda invece il turno di Coppa Italia di Serie C, nel secondo turno, come testa di serie, arriveranno tutte quelle formazioni che nel frattempo parteciperanno alla competizione nazionale, e quindi il secondo turno eliminatorio si giocherà domenica 18 agosto, il Catania affronterà la vincente tra Crotone e Messina al Massimino. E poi, domenica 25 agosto, il primo turno di campionato, quindi mese di agosto ricco di appuntamenti, a cominciare da subito, praticamente dal 3 di agosto. Nel frattempo, squadra che tra sette giorni inizierà il ritiro precampionato in quel di Assisi, nella struttura che ospiterà il Catania, e si giocherà poi e si preparerà la stagione allo Stadio degli Ulivi, Enzo Boccucci, e questo per quanto riguarda quelle che sono le manovre di avvicinamento alla stagione, quelle propedeutiche. Quindi l'11 di luglio sede in ritiro qui a Catania per le visite mediche, tutte le altre questioni legate al pre-ritiro. Il 14 si partirà alla volta di Assisi, il 15 si andrà finalmente a iniziare questa lunga stagione. Intanto cominciamo a vedere un po' gli amici che ci stanno raggiungendo attraverso le nostre chat, attraverso Whatsapp, attraverso Facebook. Cominciamo a salutare Massimo Gamba, Mario Gulino, poi Catanese Fabiuccio che ci dice che valutazione devono fare per i centrocampisti. Si è visto benissimo che il centrocampo l'anno scorso era il punto debole del Catania. Dunque la valutazione in che pro? Eh, lo abbiamo detto, si stanno valutando i nomi che potrebbero venire utili alla costruzione della squadra di Toscano che sappiamo ama il gioco offensivo, ama un gioco dinamico. Lo abbiamo anche detto poco fa che lo scorso anno il centrocampo è stato il punto debole di questa formazione. Nel frattempo si stanno valutando tutte quelle opzioni che abbiamo detto e che sono già in casa Catania. Tra un po' poi vedremo un altro cartello preparato sempre da Salvo Ferrigno che ci fa il sunto di quelli che invece sicuramente sono gli atleti attualmente in forza al Catania che non rimarranno per il prossimo anno. Massimo Gamba ci dice perché non riprendere Luca Moro? Mi pare che ne abbiamo ampiamente parlato qualche puntata fa, però potrebbe, non lo so, fa parte sempre della valutazione generale che si sta facendo in questo momento in casa Catania. È chiaro che di Luca Moro non c'è traccia nel senso che neanche rumors di mercato danno delle indicazioni in questo senso. Aspetteremo le prossime ore eventualmente per saperne di più, però per quanto riguarda l'attacco ci sono già dei nomi che il Catania sta seguendo da qualche settimana. E poi Francesco Lippo, salve a tutti, ancora niente si sa per la campagna abbonamenti, mi pare un po' presto, c'è da definire prima la strategia di quello che sarà il mercato, ci saranno delle tappe obbligatorie, è chiaro che in questo momento tutti sono concentrati sul mercato, anche le energie da spendere in merito a quello che sarà poi la costruzione della squadra e forse solo allora si potrà definire e mettere a dettaglio anche la campagna abbonamenti. Certo i tempi non saranno lunghissimi, questo è sicuro. Poi salutiamo Paolo Di Giorgi, buon pomeriggio, buon pomeriggio anche a te e poi Mario Gulino che ci chiede Chiricò, che fine farà? Possiamo rispondere forse subito con la prossima schermata e sono appunto i calciatori che non faranno parte del Catania per la prossima stagione. Ecco i qua, allora si tratta di Albertoni, di De Luca, di Averi, Mazzotta, noi lo abbiamo detto e anche Rapisarda. Come vedete questi sono quelli che sicuramente non vestiranno più il rosso-azzurro su tutti gli altri, compreso anche naturalmente Mino Chiricò, così come Sturaro, così come Monaco, si stanno valutando. Si stanno valutando non solo probabili offerte, è chiaro che il Catania ha anche questa esigenza, quello di poi piazzare i giocatori in esubero o comunque indirizzarli verso altre società e magari vedere un po' poi un discorso un attimino più complesso che riguarda la costruzione della squadra dal punto di vista tattico e tecnico. È chiaro che alcuni giocatori rientrano nel progetto tattico e tecnico o potrebbero rientrare nel progetto tattico e tecnico di Toscano, altri difficilmente potrebbero trovare spazio e quindi magari stanno valutando i giocatori stesso a fondo il proprio futuro. Allora a proposito di questo, torniamo a parlare e poi chiudiamo questa sezione degli attaccanti perché per quanto riguarda gli attaccanti partiamo sempre da quello che già il Catania ha in forza. Parliamo di Marco Chiarella che potrebbe andare, lo abbiamo detto la settimana scorsa, in prestito al Rimini. Occhi puntati anche su Samuel Di Carmine perché c'è la Lucchese che si è fatta avanti. Su quello che abbiamo detto prima, allora Chiricò, Marsura, Costantino, Abocic, Cianci si sta valutando con chiaramente alcune differenze, nel senso che probabilmente su Cianci si sta facendo una valutazione diversa, così come su Cicerelli che potrebbe restare e così come da valutare c'è la posizione di per alta. Tutte situazioni che abbiamo comunque già affrontato. Di certo c'è il che Daniele Faggiano ha chiuso l'accordo con Filippo D'Andrea del Cerignola, dovemmo vedere anche la grafica velocemente, attaccante classe 1998, giovane, 25 anni, che lo scorso anno ha fatto molto bene, 15 gol in 37 presenze. Quindi ci si aspetta da un momento all'altro la firma all'arientro dell'attaccante che in questo momento, ci dicono sempre le voci di corridoio, si trova in vacanza. Poi c'è altra pista perché non è un mistero, piace anche Facundo Lescano, argentino, di proprietà della Triestina, autore di 16 reti nella scorsa stagione. Poi c'è anche un altro nome che filtra, è l'esterno difensivo Mohamed Vareya Giamanca, classe 98 della Reggiana. Altre voci arrivano invece dalla Toscana, questa è la grafica di Giamanca. Il nome nuovo di queste ore è quello invece di Claudio Morra, punta centrale, classe 95, lo scorso anno alla Rimini, 20 gol, quindi un bottino considerevole, però attenzione perché sul giocatore c'è forte l'interesse anche del Benevento e del Vicenza. E altro nome che porta invece a Benevento è quello di Amato Ciceretti, classe 1993, lo scorso anno con la società, con i colori del Benevento, 4 gol in 17 partite, non ha avuto tantissimo spazio e peraltro le ultime voci ci dicono che il giocatore, l'esterno destro, sarebbe in rotta di collisione proprio con la società sannita e questa potrebbe essere una trattativa che potrebbe definirsi a presto. Andiamo a vedere adesso, definito per sommi capi quelle che sono le voci di mercato, salutiamo intanto Diego Raciti, buon pomeriggio e Forza Catania sempre, dice lui, sempre Carusi e noi sottoscriviamo. Andiamo a vedere invece a proposito di inizio di stagione che abbiamo anticipato, quelle che sono le tappe ufficiali nella Coppa Italia e quindi possiamo vedere la grafica, le due grafiche perché poi chiaramente il Catania quest'anno sarà impegnato su due fronti, la Coppa Italia a freccia rossa, eccola qui, si parte, questo è il tabellone completo, vedete a sinistra nella parte alta le squadre che entrano ai preliminari che sono la Carrarese promossa in Serie B, il Catania vincitore della Coppa Italia di Serie C, poi Cesena e Padova, le altre formazioni che sono state promosse in Serie B. Questi sono gli scontri diretti, il 3 agosto Carrarese-Catania e Cesena-Padova, poi 32 esimi con tutti i possibili abbinamenti, quindi il primo avversario del Catania sarà la Carrarese, ripetiamo, si giocherà il 3 agosto alle 18 allo stadio comunale di Chiavari perché lo stadio di Massa o di Carrara non è in questo momento agevole, ci sono lavori di ristrutturazione e quindi si giocherà in Liguria a Chiavari. Poi, lo abbiamo detto anche poco fa, ci sarà il proseguo, in caso di passaggio del turno il Catania potrebbe affrontare, anzi affronterà sicuramente il Cagliari. La Coppa Italia di Serie C invece, perché nel frattempo vedete il nuovo logo del campionato della Serie C e di tutte le competizioni che ruotano attorno alla Serie C, questo è il tabellone completo del primo turno che riguarda la Coppa Italia di Serie C. Vedete anche in questo caso i vari gironi, saranno quattro i raggruppamenti e nel raggruppamento azzurro, per così dire quello in basso nella schermata centrale, vedete tutti gli scontri che riguardano le formazioni prevalentemente del girone C. Tra questi scontri c'è anche da evidenziare Crotone-Messina perché da questa partita uscirà il prossimo avversario del Catania. Secondo turno eliminatorio, il Catania testa di Serie, affronterà al Massimino la vincente tra Crotone e Messina. Un déjà vu, per così dire, che si ripete. Lo scorso anno sia Crotone che Messina furono incontrate al Massimino dal Catania e quindi in questo caso ci sarà anche quest'altro appuntamento. Tutto questo componeva la trasmissione di oggi anche perché siamo già oltre le 15.30. Vediamo se ci sono ancora altri saluti in Estremis, se ce la facciamo. E comunque credo che il quadro, anche se è sintetico, oggi è stato anche abbastanza analitico, l'abbiamo fatto reparto per reparto, è completo su quelle che sono le operazioni di mercato già definite in entrata, quelle da definire e quelle da definire anche in uscita con qualche altro innesto che arriverà verosimilmente nell'arco di questa settimana e quindi prima che il Catania inizi la stagione ufficialmente col ritiro di Assisi. La dirigenza lo ha detto a chiare lettere, lì ad Assisi il Catania dovrà presentarsi con un organico definito almeno al 60%. Noi staremo sempre presenti sul pezzo come facciamo ogni lunedì e comunque per tutte le altre informazioni flash seguite anche i nostri social quotidianamente, soprattutto la pagina calcionata e i commenti in casa rossa-azzura. Per il momento credo è davvero tutto, abbiamo rispettato i tempi, domani se vorrete potete seguire la replica su 7 gold, top calcio 24 sempre alle 15. Un saluto a Gaetano Rigreggi in regia, un saluto a Vincenzo Lacorte, da Salvorus è tutto, appuntamento a lunedì prossimo. La mia vita è un saluto a Vincenzo, non è un saluto a Vincenzo, non è un saluto a Vincenzo,